Hanno visto tutti, si è visto in televisione, il Consiglio è autonomo. Un intervento più blando nei toni ma non certo nei contenuti, quello di Alfonso Baldi che nel Consiglio Comunale di ieri è tornato ad attaccare la Sindaca e a rimendicare il suo passaggio all'opposizione insieme alla collega Rossella Speranza. L'assise è terminata anzitempo per via della mancanza del numero legale, rinviando ancora una volta la discussione sul Consiglio dei ragazzi che tante polemiche ha scatenato proprio fra Baldi e la francese nel corso dell'ultima seduta. Lei, cara Sindaca, non è la padrona del Comune, tanto meno del Consiglio. Forse il potere fa brutti scherzi. Il Presidente le fa onore che non ha ascoltato il decreto della Sindaca. Anzi, la invito, come suggeriva il collega da Campora, di mettersi lontano, anche perché il Presidente non solo deve essere libero nell'esercizio del suo mandato, ma anche a parire tale. Grazie a tutti.